Max è retata antidroga in Turchia, dove più di 7.000 agenti hanno compiuto 913 arresti e 907 perquisizioni in 79 province del paese. Nel mirino, trafficanti e spacciatori di cocaina, eroina, hashish e altre droghe sintetiche. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate anche quantità non precisate di armi e munizioni.